Dopo l'annuncio della nuova Area B, una zona a traffico limitato più ampia della già nota Area C, un'altra sorpresa non a tutti gradita è in arrivo per i milanesi. Dal 2019 il biglietto dei mezzi ATM costerà ben 50 centesimi in più, 2 euro anziché 1,50 euro. Il nuovo biglietto consentirà di viaggiare anche nei comuni limitrofi ed entrerà in vigore a gennaio 2019. Molto probabilmente però sarà effettivo da marzo-aprile. L'ultimo rincaro, sempre di 50 centesimi, risaliva al 2011. Ovviamente la notizia non è piaciuta a quei milanesi che non usano i mezzi per uscire dalla città, ma il sindaco Sala ha parlato di un provvedimento non procrastinabile. Servirà a migliorare la qualità del servizio offerto, ma anche a sostenere le spese per le nuove metropolitane. 90 milioni annuali per la Lilla, 10 milioni per il prolungamento della Rossa, Cinisello e Balsamo, 100 milioni l'anno per la M4. In particolare, per quanto riguarda le migliorie del sistema attuale, molte riguardano, oltre al comfort di chi le utilizza, l'impatto ambientale. Tra questi rientrano i nuovi bus elettrici, lunghi 12 metri e larghi 2,55, altezza 3,30 metri. Hanno un pianale integralmente ribassato per i disabili, impianto di climatizzazione. Sono alimentati con batterie con tecnologia litio-ferro-fosforo, che garantiscono un'autonomia di circa 180 chilometri, senza emissioni inquinanti. Era necessario inserirsi in questo contesto di evoluzione della mobilità per anticipare l'uscita dal diesel, ha commentato il sindaco Beppe Sala.